Musica Nuova puntata di Avvocati Rispondono, nuove domande e nuove risposte. Partiamo con Cristina, che lamenta un grosso problema con i condomini del suo palazzo. Cosa può fare per far rispettare le regole? La parola all'Avvocato Bortolotti. A chi non è capitato nei nostri condomini di trovare una macchina o un veicolo comunque parcheggiato dove non doveva stare, dove non aveva diritto di stare? Ecco, questo è l'oggetto di parecchie domande che sono giunte alla nostra redazione e rappresenta un problema, tra l'altro, anche di non facile soluzione giuridica. Che riguarda la vita di tutti i condomini, ma anche quella di chi potrebbe anche essere estraneo al condominio e decide di lasciare il proprio veicolo dove non deve. Ecco, cosa succede nel concreto e cosa prevede la legge? Allora, con riferimento ai condomini che decidono di abbandonare la macchina dove non possono, dove non devono e in un posto dove non ne hanno diritto, anche negli spazi comuni condominali, occorre ricordare che la legge prescrive che se il regolamento contrattuale di condominio, sia quello che noi abbiamo sottoscritto acquistando l'immobile, legato al rogito, prevede delle sanzioni, allora è applicabile quanto prevede l'articolo 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile, che prevede l'applicabilità di sanzioni anche abbastanza pesanti per i proprietari, i condomini che hanno posto in essere questa condotta illegittima. Infatti l'amministratore, previa delibera apposita dell'Assemblea, che potrà essere convocata in via straordinaria, ha la possibilità di applicare al trasgressore una multa che va dai 200 agli 800 Euro, se si tratta di recidiva. Il buon senso, il comune buon senso, ci dice che chi dovesse essere colpito da una sanzione del genere ci penserebbe a mille volte, prima di rimettere la macchina davanti al nostro posto auto, davanti al nostro portone o comunque sui prati del cortile condominiale, negli spazi che non sono adibiti a parcheggio. Ma tutti noi sappiamo, è esperienza di tutti, che questo a volte non basta, o perché proprio il regolamento di condominio non permette di elevare delle sanzioni, o perché chi viene colpito dalla sanzione comunque persiste nella sua condotta illecita. Ci sono diverse persone e idea comune che in quel caso, se qualcuno persiste nel fare un po' quelli che sono gli affari suoi, possiamo chiamare il carattrezzi a debitargli i costi. Ecco, questo non è vero. Non è vero perché la Cassazione, una recente sentenza del 2014, ha ribadito che, proprio perché sono previste delle specifiche sanzioni che l'amministratore può applicare con il procedimento che dicevo prima, non è lecito per il cittadino agire in autotutela, ossia giudicamente parlando, facendosi giustizia da sé, chiamando il carattrezzi e aggiungendo una, diciamo, una sanzione ulteriormente afflittiva contro il trasgressore rispetto a quella già prevista dalla legge. Quindi non è possibile, ricordiamocelo, per non incorrere in spiacevoli controsorprese, non è possibile chiamare un carattrezzi e far portare via la macchina di chi si sta comportando in questo modo. Se ci sono dei problemi a livello di regolamento di condominio, ossia non sono previste le sanzioni, l'unica strada è fotografare, ovviamente, e documentare la trasgressione del nostro vicino di casa e a dire il giudice di pace che, una volta accertata la trasgressione al regolamento di condominio, ancorché non preveda delle sanzioni, ma comunque prevede il divieto di parcheggio nelle zone comuni, condannerà il trasgressore alla multa, alla sanzione che riterrà opportuna. La questione che in ultimo rimane sospesa e che ha un risultato, se vogliamo, anche paradossale, è quella che prevede il rinvenimento del veicolo di un estraneo al condominio negli spazi comuni condominali. Allora, paradossalmente è stato riconosciuto in giurisprudenza che in questo caso, e quindi quando si ha a che fare con un soggetto che non è vincolato dal regolamento di condominio, ma è estraneo al condominio, siccome magari è necessaria una soluzione rapida della problematica, l'amministratore è legittimato a chiamare un'azienda specializzata che col proprio carattrezzi potrà spostare il veicolo in questione, adebitando i costi al trasgressore. Un'ultima notazione riguarda il diritto pubblico, se per eventualità l'estraneo avrà parcheggiato vicino al nostro passo carraio, ma all'interno degli spazi condominali comunque la competenza sarà della polizia locale, perché si tratterà di accesso alla via pubblica, quindi in quel caso non potremmo agire in via individuale, ma dovremmo sempre e comunque chiamare la polizia locale. Quindi in concreto che cosa possiamo fare quando un nostro vicino si ostina a mantenere un comportamento del genere? Chiamare l'amministratore, accertarci che il regolamento di condominio preveda che lo si possa sanzionare e se sì all'interno dell'assemblea che l'amministratore deve convocare d'urgenza, affibbiare a questo personaggio le dovute sanzioni. Se non dovesse essere sufficiente bisognerà per forza pensare a una soluzione giudiziale. Diversamente se si tratta di un estraneo che ci crea un grave danno con la propria sosta illegittima, possiamo provvedere a far spostare il veicolo a chiamare la polizia locale. Cambiamo l'argomento e passiamo a Filippo, che non sa come opporsi al suo licenziamento. Avvocato Pollastro, cosa ci dice? Buongiorno, cosa deve fare il lavoratore per reagire, questa è la domanda, a un licenziamento che ritiene ingiusto, sbagliato? Beh, innanzitutto una notizia subito, assolutamente importante, anche il lavoratore licenziato, come in questo caso mi sembra di intuire, dalla domanda per motivi disciplinari, ha diritto all'indennità di disoccupazione, quella che oggi si chiama NASPI, semplicemente il lavoratore avrà, subirà un ritardo di 30 giorni nell'ambito per il pagamento della NASPI, ma attenzione, anche il licenziamento per motivi disciplinari è un licenziamento, una disoccupazione involontaria che dà diritto alla possibilità di iscriversi e ottenere l'indennità di disoccupazione. Allora, innanzitutto come fare un'impugnazione, come reagire a un licenziamento che uno, il lavoratore, ritiene ingiusto? Innanzitutto i tempi, il lavoratore ha 60 giorni di tempo per impugnare, e attenzione, sono 60 giorni, come dicono gli avvocati, di decadenza, quindi non ci sono sospensioni di tempi, ma io non ho impugnato perché in quel momento ero in ospedale, perché ho avuto un incidente stradale, decadono anche quelle, per cui se uno deve impugnare, evitare di arrivare al soglia, all'ultimi giorni, perché dico questo e insisto questo? Uno dice, beh, 60 giorni, basta sapere, uno se lo segna, perché molti lavoratori fanno un piccolo giochino d'azzardo, nel senso di dire, non impugno per non irritare il datore di lavoro, perché mi aspetto e mi auspico che intanto il datore di lavoro mi paghi le mie competenze, la liquidazione, il trattamento di fine rapporto, non so, le ferie non godute e quant'altro, e quindi una volta che ho incassato impugno, dato che però giocando in questo modo si rischia di arrivare alle soglie alle 60 giorni, poi quel giorno uno ha veramente l'influenza e rischia di essere fuori terra. Quindi 60 giorni. Seconda cosa, come fare una lettera di impugnazione e licenziamento? E qui, attenzione, se ne vedono di tutti colori, ma dimentichiamoci le formule magico-sacrali a quale tante volte siamo abituati, ai sensi e per gli effetti della norma, della legge, del codice, del codicillo, il fascino delle formule sacrali. Non occorre fare, non servono assolutamente queste formule. Il lavoratore deve semplicemente fare una raccomandata, con ricevuta del ritorno, nell'ambito alla quale dice, io non sono d'accordo, io mi oppongo, io impugno quel provvedimento che mi riguarda di licenziamento. Perché? Perché lo ritengo giusto, perché lo ritengo sbagliato, perché lo ritengo infondato, ma bastano queste poche parole. Attenzione, attenzione, non fare invece l'errore per tentare di essere non aggressivi, cortesi, di scrivere semplicemente un invito a un ripensamento, un invito a riesaminare la propria posizione. Un invito a riesaminare la propria posizione non è una impugnazione, è una preghiera. Allora deve essere chiaro, ok, io ho impugnato. E poi? Dopo il lavoratore ha una serie di percorsi, di solito a quel punto si possono aprire anche delle fasi di conciliazione, di trattazione tra le parti, però a questo punto io consiglierei il lavoratore di non rimanere da solo e di rivolgersi o a un avvocato, o a un sindacato, o a un patronato comunque di natura sindacale, per farsi assistere alla fase successiva. Attenzione, uno può anche rivolgersi all'ufficio del lavoro, all'ispettorato del lavoro, chiede l'intervento dell'ispettorato del lavoro, ma attenzione c'è un termine, una volta che uno ha impugnato, dal giorno dell'impugnazione l'eventuale causa giudiziaria va fatta entro 180 giorni, attenzione, diciamo sei mesi. E quindi a quel punto non si può impegnare soltanto il tempo attraverso una denuncia all'ispettorato del lavoro o quant'altro, entro 180 giorni va fatta la causa, se lo ritiene il lavoratore di fare poi la causa, per cui se il datore di lavoro non c'è una risposta, non c'è una conciliazione, bisogna muoversi per tempo nei confronti con l'organizzazione sindacale, con un avvocato, con un proprio consulente, per poter poi, se si ritiene e si conferma la propria opposizione, procedere eventualmente anche in una sede giudiziaria per impugnare il licenziamento. Grazie Ringrazio i nostri avvocati e vi ricordo la nostra mail avvocatirispondono-ilcomizio.it Ci vediamo martedì prossimo Ringrazio i nostri avvocatirispondono-ilcomizio.it